Il Toro si è riconquistato, la speranza per la Serie A per i play-off attraverso questa bellissima vittoria contro il Gallipoli per 2-0. C'è chi ha detto che alla fine non siamo stati formidabili, non abbiamo fatto sfracelli, mi riferisco a Gino, tu che cosa rispondi? Direi che siamo stati bravi a vincere questa partita anche con delle piacevoli situazioni di gioco dove ci ha portato anche a concludere con una certa frequenza. Cosa che è vero che l'avversario era quello che era, però fondamentalmente arrivare a concludere 15-16 volte, poi non sempre nello specchio della porta, vuol dire che qualcosa di buono hai fatto. Non è stata sicuramente una bellissima partita, però è stata una partita ricca di episodi favorevoli al Toro, perché comunque se li sono anche costruiti. Bianchi si è mangiato due gol, non dico facili perché di facile non c'è mai niente. Abbiamo visto un ragazzo che per la prima volta da quando è iniziato il campionato, in 38 partite, ho visto una coppia di attaccanti che è una coppia, nel senso che si cercano, giocano insieme e questo fa ben sperare. Poi è chiaro che una partita sola non può fare un giudizio così completo su questo Salgado, però comunque di prospettiva in funzione di queste quattro gare che mancheranno da qui alla fine, molto importanti e subito da sabato abbiamo questo incontro, direi uno dei due decisivi per tentare di stare dentro a questi play-off. Per coronare questa giornata mancava soltanto un gol di Bianchi che ha cercato il nostro stesso capitano in tutti i modi ma non ci è riuscito. Sì, direi perché se l'è anche meritato, se l'è cercato e l'ha anche fortemente voluto, però a volte un pizzico di imprecisione fa sì che tu la porta non la prendi, come nelle due occasioni clamorose che ha avuto. Però direi che se lo meritavo soprattutto perché ha fatto 23 gole, perché è giusto che alla fine festeggi uno la possibilità di fare i play-off e magari auguriamoci addirittura un secondo posto. Ma soprattutto per lui che raggiunga anche questa classifica cannonieri che lo vede artefice di un campionato straordinario che ha fatto finora. E fino in fondo abbiamo sperato un po' nel debutto di Comi? Beh, io personalmente sì, perché era una partita, anche se poi è sempre difficile entrare nel merito degli altri che devono decidere, però sarebbe stato bello fare esordire un ragazzo di 17-18 anni in una partita dove ci poteva anche stare. Insomma, vedere un ragazzo che è del Toro, è tifoso del Toro, gioca nella primavera del Toro, sarebbe stato piacevole. Sabato prossimo? Beh, sabato prossimo sicuramente le insidie sono grandi, loro hanno questi quattro punti di vantaggio, quindi affronteranno una partita a scontro diretto con una maggior serenità, una maggior consapevolezza che comunque anche il pareggio può star bene a loro. Dipenderà molto anche da questa gara che ci sarà lunedì Empoli-Brescia perché può essere decisiva per l'Empoli se battono il Brescia perché rientra nettamente nella corsa pre-off perché raggiunge noi il grossetto a 58 punti. E questo fa sì che poi il tutto venga un pochettino ancora più complicato. Senti, hai firmato il palone dell'editoro, quindi ufficialmente fai parte della squadra del blog, fai parte della nostra squadra, oltre che della nostra famiglia, ma ormai sei un componente fisso da un paio d'anni. Un saluto a tutti i nostri lettori? Un saluto all'editoro ma soprattutto faccio parte perché ci sei tu e questo è giusto dirlo. Sono quattro anni che sono in questa televisione a me molto familiare e quindi il saluto è doveroso non solo ai tifosi del Toro ma vorrei farli anche agli sportivi, quelli veri, che apprezzano in modo molto sincero e spontaneo come noi commentiamo e facciamo o diciamo o esprimiamo i nostri pensieri su quelle che sono le partite del Toro. Anche quando i nostri pensieri sono cangianti? Cangianti cosa vuol dire? Hai già detto che diciamo cazzate. Beh, può capitare a volte di non essere d'accordo, però direi che cazzate personalmente non mi sembra di averne dette, magari per quanto riguarda l'ambito calcistico della partita. Qualche zobolata ogni tanto scappa. Beh, direi che le zobolate scappano più a qualcun altro.